E' stata presentata in Municipio Pordenone dal Sindaco Claudio Pedrotti e dall'Assessore alle Attività Economiche Bruno Zille la graduatoria delle attività commerciali ammessa al finanziamento del progetto PISUS, Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile. Su 54 domande presentate dalle piccole e medie imprese, la Commissione ha finanziato 18 progetti, di cui 7 per le nuove attività e 11 per il miglioramento di quelle esistenti. Il Sindaco di Pordenone è Claudio Pedrotti. Il progetto PISUS è entrato nella sua reale attuazione e la prima cosa che siamo riusciti a fare è coprire quella parte del progetto che riguardava lo sviluppo di nuove imprese con dei soldi che vengono messi attraverso un bando ad aiuto di chi vuole iniziare nuove attività o di chi le vuole rinnovare. Le domande che ci erano pervenute erano più di 50, sono state valutate, adesso sono 18 le imprese che riusciranno ad ottenere un aiuto per rinnovarsi sia nel centro della città ma anche fuori il centro della città perché era questo uno degli obiettivi del bando stesso. Quindi c'è un motivo di grande soddisfazione anche per il fatto che questo ancora una volta è un modo di provare che quando si lavora insieme con i commercianti, con gli artigiani, con la Camera di Commercio le cose alla fine si ottengono. Un bel segnale in questo momento di mini ripresa sembra quasi come dire aiutare questa onda di nuovo che riparte mettendo risorse ulteriori per far sì che si accentui. Bene, un gran segnale alla città.